ma buongiorno allora sono al computer come vedete dalla mia possession quando mi vedete con il letto alle spalle vuol dire che sto al pc e sto praticamente caricando il video il video che ho girato ieri e devo dire meno male che c'ho la fibra finalmente a questa era una cosa che non vi avevo detto praticamente abbiamo messo la fibra e quindi adesso praticamente per caricare video mi ci vogliono veramente dieci minuti infatti io l'ho messo adesso già sta al 50 per cento cioè ragazzi ma è successa una cosa del genere infatti penso che caricherò praticamente tutti i giorni a sto perché non non ci mette più tanto tempo come prima però però visto che non ci mette più come prima e visto che posso ho deciso di pubblicare i video alle due del pomeriggio tutti i giorni così almeno ci avete un appuntamento preciso quindi ricorda a meno che non succeda al finimondo però di solito alle due del pomeriggio uscirà un video non so se tutti i giorni se a giorni alterni ora vediamo perché comunque ci avrò da fare anche ancora delle visite delle cose quindi finché ho tempo ve lo carico tutti i giorni quando ci avrò da fare la mattina cercherò di caricarvelo il prima possibile appena torno a casa comunque segnatevi assolutamente questo appuntamento alle due del pomeriggio verranno caricati sempre nuovi video ogni giorno o quasi e niente ragazzi adesso sono già le 10 e 40 io ho sistemato già tutta casa c'ho un sacco di scartoffe da 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 sistemare di pagamenti da fare mannaggia dei zanzari mannaggia dei zanzari che mi girano intorno a volevo farvi vedere che ho preso anche io l'agenda di filo meramore la boss lady mi ci sto trovando benissimo alla io non sono un tipo da segnarsi le cose nel cellulare assolutamente perché mi dimentico preferisco le agende devo dire che questa finora io ne ho provate tantissime questa finora è una delle agende che con cui mi sono trovata meglio di tutti fatta benissimo anche la carta è spessa non non si calca sotto insomma nella pagina quella sotto non so come spiegarvelo poi cioè insomma ragazzi è bellissima vabbè comunque non è per fare pubblicità è perché solo mi sono trovata bene tutto qui niente adesso ho finito qui di fare con il pc mi fanno malissimo gli occhi non ci fate caso se so sempre a toccarmi gli occhi ma c'ho un'allergia non so dovuta a che cosa probabilmente a al pennello che usavo per mettere il correttore infatti sono due giorni che non lo metto e già mi è passato però so particolarmente allergica a qualcosa secondo me vabbè vado di la in sala riposarmi un attimino e ci vediamo dopo quando non hai voglia di cucinare a pranzo e che cosa fai torno coi fagioli anzi e miei figli gli piace e e poi ovviamente va la mia preferita buongiorno salto temporale oggi è il giorno dopo e sì vi avevo avvertito che ogni tanto ci sarebbero stati sti salti temporali effettivamente così è stato perché ieri dopo che ho sistemato casa e ho sistemato il video e tutto quanto mi sono seduta un attimo sul divano poi non mi so più rialzata perché non riuscivo proprio sono dolorante da un po non perché sia arrivata alla fine per carità cioè ci manca solo questa solo che c'ho veramente un sacco di dolori nervo sciatico penso perché il dolore del nervo sciatico lo riconosco e quindi niente quindi stata malissimo poi in più dovevo portare i bambini a karate quindi lo portate a karate a fatica e la sera neanche ve lo dico quindi neanche ve lo dico quindi scusate se ieri sono stata assente tutto il giorno ma oggi insomma spero di essere un po più nelle mie forze stanotte è venuto giù di lui universale qua da me calcolate che mi ha buttato giù il barbecue con lo stendino sopra infatti ho pregato che non si fosse rotto niente perché comunque questo barbecue è spettacolare ovviamente io con l'allergia mi bruciano gli occhi c'ho la finestra aperta per far cambiare l'aria ragazzi e niente quindi ha fatto questo di lui universale ha portato via praticamente c'era c'erano i sacconi della plastica perché stamattina passa la plastica c'erano i sacconi della plastica lungo la strada l'ha tutti quanti fatti rotolare insomma a macello l'ha portati non so dove è ancora un po nuvolo speriamo che non piove pure oggi perché sennò diventa un disastro vabbè comunque stamattina non penso di fare niente di particolare se non continuare la copertina che sto facendo sì perché per chi non lo sapesse io d'inverno so divento lana dipendente nel senso che mi piace fare le cose con la lana con i ferri eccetera quindi mi sono messa quest'anno il mio intento è fare sta benedetta coperta ci vuole più ci vuole più del necessario devo dire la verità pensavo ci volesse meno tempo invece vedo che ci vuole parecchio tempo sono più o meno a metà percorso a metà al lavoro quindi mi manca ancora metà al lavoro però piano piano insomma ho iniziato messa alla fine d'agosto quindi non è che ho iniziato tantissimo in teoria ce la dovrei fare Samuel è andato a fare il tagliando della mia macchina a Viterbo gli ho già commissionato un paio di cose da prendere al supermercato perché io non esco perché ho paura di prendere l'acqua più che altro e basta ora finisco il mio la mia colazione che ancora sta qua e basta e poi mi metto a ecco devo piegare un sacco di panni perché ieri ho fatto tre lavatrici quindi devo piegare un sacco di panni l'asciugatrice sta andando perché oggi è impossibile che te si asciugano i panni quindi sta andando e niente dopo vi aggiornerò anche su cosa farò per pranzo perché non ne ho la più pallida idea allora previsione fatta a metà nel senso che hanno fatto un po' un casino e niente finalmente è arrivato l'orario di Alessandro di scuola sembra vero che dopo una settimana quasi di scuola finalmente abbiamo l'orario quindi io l'ho scritto copiato e scritto e oggi pomeriggio lo scrivo anche Aurora perché è giusto almeno l'ho appiccicano in camera e stanno a posto oggi a pranzo siamo praticamente tutti quindi ho tirato fuori il sugo del il sugo come si chiama al ragù che avevo fatto l'altra volta e l'avevo messo da parte quindi siamo a posto e niente Samuele è riuscito anche a trovare il karateggi per Alessandro pagato 30 euro poi ho scoperto che il maestro di karate invece lo faceva pagare 20 vabbè abbiamo speso 10 euro in più vabbè pazienza e niente quindi aspetto ma anche i ostri stanno messi così con Roblox figlio ma che vuoi tu dobbiamo cominciare i compiti finalmente finalmente iniziamo con qualche compito di fuori c'è un tempo schifosissimo e secondo me verrà anche a piove speriamo così stiamo a casa eccoci qua finalmente riesco a farmi una doccia quindi dite addio a questa faccia disperata mamma mia oggi ho fatto vedere il peggio di me veramente il peggio scusatemi purtroppo le mie giornate non è che sono frenetiche piene di robe ogni giorno quindi faccio quello che posso comunque io penso che questo video lo terminerò qui e vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo ciao grazie a tutti 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 grazie a tutti